Sta per iniziare a Iesi un evento importante, Mestiere in bicicletta, una esposizione che si aprirà il 30 aprile a Palazzo dei Convegni, evento voluto dall'amministrazione comunale di Iesi, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Pinacoteca Civica di Iesi. La dottoressa Mozzoni ha appena presentato questo evento come un evento importante che ricorda l'attaccamento ai mestieri e l'importanza anche della memoria nel nostro territorio. La memoria è importante ma è importante anche la fantasia e la creatività che questi artigiani hanno messo nel creare uno strumento di lavoro. Oggi usiamo naturalmente strumenti tutti diversi, anche molto più sofisticati, ma già standardizzati, li comperiamo così. Invece gli artigiani che usavano le biciclette le adattavano ed è questo elemento, questo valore in più che dà il significato alla iniziativa. Un'iniziativa che è stata organizzata in collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Pinacoteca con il sostegno di Banca Popolare e del Sitiper è un'iniziativa seguita da Roberto Gigli e con la presentazione di Francesco Scarabicchi che è stato definito dall'assessore Valentina Conti il poeta un po' dell'essenziale in cui nessuna parola è di troppo, un poeta di questa essenzialità che sottolineava la Conti. Lei ha fatto una ricerca su questo tipo di mestieri? Mi sono avvalso del materiale che mi è stato fornito da Roberto Gigli e della mia memoria perché molti di questi mestieri li ho visti direttamente in prima persona è una specie di presa diretta del tempo che a sua volta si trasferisce nel presente essendo diventato passato ormai per sempre e questi mestieri erano voci, suoni, armonia addirittura un poeta del Novecento come Giorgio Caproni parlava di pedale melodico di questa presenza di arti, mestieri e lavori questi carrozzini che attraversavano i borghi, i villaggi, le città e che facevano diventare o lasciavano che fosse la città un piccolo paese cioè il quartiere dove abitavano questi mestieri, questi artigiani, questi nomadi ambulanti dal teatro all'arrotino, dal venditore di latte al presepio oscillavano in una sorta di luogo fantastico ma insieme concreto che è lo stesso in qualche misura percorso che fa la poesia a volte cioè tocca le cose concrete, nomina le cose concrete creando una specie di mistero o di magia il luogo di questi mestieri, di queste arti è diventata la possibilità di capire guardando il passato chi siamo cosa magari abbiamo e cosa ci manca in questa specie di inventario totale della storia Bene, quindi questo collegamento tra il presente e il passato Roberto Gigli ha ideato anche un progetto che possa coinvolgere i ragazzi delle scuole con delle schede particolari Sì, attorno al progetto che è quello espositivo con le 12 installazioni di cui parlavamo c'è un progetto dedicato alle scuole elementari e medie della regione Marche della provincia di Ancona e della città di Iesi che sono state direttamente invitate a partecipare all'evento espositivo e che saranno ulteriormente coinvolte con del materiale didattico da riportare in classe per fasce d'età i bambini saranno chiamati a immaginare con la loro fantasia un loro mestiere ideale ci aspettiamo in questo senso molte sorprese e un apprezzabile movimento di visite in tutto il mese di maggio a iniziare da subito dopo il primo quindi le scuole che sono state coinvolte già adesso prima della presentazione sono 10 e crediamo quindi che questa sia una parte della mostra e dell'evento particolarmente interessante per il coinvolgimento che ha con le nuove generazioni quelle che non hanno mai visto le cose che sono espresse in mostra accompagnate anche da una ricerca iconografica che tende a ricostruire gli ambiti sociali in cui queste biciclette si muovevano importante questo spaccato, questa serie di cartolini in bianco e nero che derivano dal passato per capire e collocare ciò che vediamo direttamente fisicamente le biciclette da lavoro nella mostra Ricordiamo anche l'importante collaborazione del collezionista che ha messo a disposizione queste opere Certo, Luciano Pellegrini è appunto il collezionista un uomo che negli ultimi 30 anni ha raccolto tantissime testimonianze in questo senso ha cominciato la sua passione forse rincorrendo un suo ricordo giovanile quello di un bambino di 12-13 anni che andava lui stesso a raccogliere le pelli nelle campagne del suo paese da questa riscoperta, da questo ritorno alle origini è riuscito a recuperare circa 40-45 mezzi da cui abbiamo selezionato i mezzi esposti in mostra e quindi lo ringraziamo in particolare per questo perché anche attraverso uomini e passioni come le sue si riesce oggi a parlare di qualcosa che altrimenti vedremo scomparire per sempre Ricordiamo anche i dati tecnici e la mostra quindi gli orari d'apertura? Gli orari d'apertura 10-13-17-20 di tutti i giorni comprese le festività tranne il lunedì La mostra sarà aperta il 30 aprile alle 18 con l'inaugurazione e sarà chiusa il 18 maggio Concludiamo ancora con un pensiero del poeta su questa importanza del recupero anche dei tempi ecco la bicicletta era uno strumento che portava necessariamente alla lentezza nel senso più positivo del termine Certo, nel testo infatti che ho scritto è detto proprio questo cioè la possibilità di rallentare il tempo in contrasto con un'epoca come la nostra che brucia, consuma, cancella e dimentica e perde e allora la lentezza, la misura del tempo, la scansione del tempo che veniva persino ritmata da quello che un poeta come Giorgio Caproni ha chiamato il pedale melodico questo ritmo melodico delle armonie significava anche tentare di allentare o allontanare la distanza della morte perché c'è un rapporto molto preciso tra tempo, esistenza e morte quindi allungare il tempo dell'esistere quindi il tempo dell'umano significava in qualche modo avere la possibilità di conquistare lo spazio della propria vita così invece siamo forse nell'inconsapevolezza più veloce Bene, ringraziamo per questa iniziativa allora l'appuntamento per l'inaugurazione è il 30 aprile alle ore 18 al Palazzo dei Convegni la mostra sarà aperta fino al 18 maggio per Vallesina TV è tutto